transazione fa un casino fioi che vi sfonda i timpani quindi state attenti quando parte perché veramente se non vuoi restare sordi da una riccia o anche da tutt'edò un attimo di attenzione o però scusatemi adesso quanto cazzo a parte le occhiaie che sono sveglio da stanotte a luna e non ho dormito un cazzone di niente ma con questa qualità io posso andare a fare un pornazzo ditemi la vostra onesta opinione lo guarderete vi verrebbe barzotto come ne pensate chi è blur bravo ha indovinato sono proprio io sono blur zeji imbrassa tutti praticamente ragazzi ho un 240 hertz ma non ho mai giocato a 240 hertz da quello che ho visto ma alvi ma come mai fa 60 frame prima è andato a 60 frame weird e qua ti do una pozzetta se vieni da me ad elu un cazzo di gl dimmi se c'è un'arma per me perché è un lanciagranate di merda è uscito da dove due grani e c'è un'arma per me è uscito da dove due grani e c'è un'arma per me non è che sono proprio gli enemy sono io che non sto giocando a più di 144 hertz quindi a volte non riesco a fare le cose veloci come al solito perché non vedi frame sto vedendo se c'è 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 uno c'è uno c'è uno qui chi ha con il rift è quello che ho lanciato io, gente con le pietre che sta arrivando rivedo ho fatto headshot raga ho solo un colpo di pompa io e non so come salire no 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 raga mentre gli stavo sparando non ci taranno tipiche di riavvio del sistema oh merda non ho colpi tiriamoci sto gunfire io sto ancora cercando i colpi di pompa raga io ho zero colpi io ne ho zero dobbiamo salire però se raga dobbiamo mettere il piano ci dobbiamo curare oh il gunfire oh tira sto gunfire raga ho un colpo di pompa perchè non si sentono i ragazzi che parlano perchè sennò sentireste l'eco gli entro dentro eh raga raga la pozzata 50 qui raga non posso prendere la pozzata 50 l'ho lasciata io ma se lo si è abbioccato ragazzi stanchissimo ha fatto la maratona con paolo marza fra poco si butta dalla finestra what ma che lo stai combinando ragazzi non lo so prima gli ho mandato un messaggio per chiedergli perchè la gente diceva che era triggerato e ha detto che ha triggerato su fifa ma vai allora ho una pozzetta per te Delo ho una pedana se volete vai piuttosto di farmi il lago andrei quello che sta volando ma sei troppo difficile spai così salida 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 do no No Qualcuno ha delle cure Me lo puoi dare Blink ora? Subito proprio? Merda dov'è? Qua c'è una bozzetta prenditela Perfetti ho due lanci e granate Andiamo Ce l'avete davanti? Ce l'avete davanti? Gli tiro le granate c'ho doppio lancio e granate tranquilli Sto giocando solo di cervello Qua c'è un medikit Io ho bisogno di shieldini Qua c'è un medikit Qua c'è un medikit Lascia mi lascia i shieldini Blink Se hai dei cazzi lasciateli Vai sto qua dentro Mi sto curando Vai lasciali pure Una banda al massimo C'è gente a 3.30 ragazzi Attenzione Avete gente a 3.30 Ora non da voi sarà a nord ovest Oh mio dio C'è gente alla tua sinistra Siamo lontani Colpito colpito Eh dobbiamo stare attenti a quelli a 3.30 però Dove? Dov'è quello che spara? Ah stanno pushando pure Ragazzi dovete guardarvi dietro eh C'abbiamo un team dietro Wow mi ha cecchinato quello qua a sinistra Mi riesci a restare tu Grazie Delo Grazie Delo Mi ha cecchinato quello a sinistra C'è uno dietro una roccia A sinistra a sinistra 30 30 30 sta One shot lì dentro Merda c'è un altro team Sotto 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 No sotto Sotto a sinistra Casetta va a nord Pure da dietro ora non lo posso giochinare dobbiamo andare da una mano a blink blink dov'è e come ho fatto a noccarmi da solo no raga non ci capisco niente non vedo le cose e one shot a meno 100 meno 100 serve il restista no serve il restista arriva la zona ragazzo la jump non riesco a vedere le cose ragazzi mannaggia no no tranquillo tranquillo metto una jump metto una jump ragazzi venite ho una jump una jump dobbiamo andare saltate saltate c'è blink cazzo e vai vai un parolone che cazzo mamma mia ragazzi che fatica puoi vedere che si fa no no tranquillo tranquillo mi ci devo abituare solo che sto faticando una cifra buon secondo buon secondo Grazie a tutti.